Stiamo passando come squadra di tre uomini per scuotare la posizione dell'estero Abbiamo trovato l'estero a scuotare, quindi abbiamo deciso di scuotare prima Tango 1 Siamo spaventati almeno 2-1, ma se possiamo arrivare veloce alla fine di questo bambino possiamo esattivare un punto di avventura solido e aspettare per il resto della squadra Occhio eh Tango 2 Tango 2 Vai Sono avanti, sono avanti, siamo in parallelo Siamo arrivati alla fine del bambino, ma molti più vedi sono arrivati all'estero Siamo arrivati alla fine del bambino e aspettare per arrivare dopo noi Questo bambino è un punto strategico che è stato contente tutto il giorno D'abbiamo Ovviamente c'è, sono arrivati massivamente per reggare il loro bambino I'm counting four with two of them on higher ground With enemies coming from the other side as well, my spot gets compromised I'm going in the same position as before, but inside the building Man, I love the Tokyo Marui ball catch I've got more cover but less visibility, there's a pretty high chance that the enemy gets around me I've got more cover but less visibility, there's a pretty high chance that the enemy gets around me I'm doing my part on the right side and my two teammates are doing theirs center and left Ultimately the enemy is pushed back once again But you always got this sneaky one Without any overwatch I paid close attention to my sights and back all the time This is when I heard some footsteps behind me This is great radio communication as well Any of my teammates called for that position, so I was sure that must have been an enemy All in all we did a great job outperforming the enemies despite their number Thanks a lot for watching Mickey out 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 Mickey out